Lillo Filetto si candida a presidente della regione siciliana. E' questo il rumor che sta pian piano prendendo piede sui social network. Filetto starebbe dando vita a un proprio partito per prepararsi la corsa a Palazzo d'Orleans. La notizia, rimbalzata soprattutto su Facebook nelle ultime ore, riferisce della nascita di un movimento politico e non più quindi squisitamente civico, riconducibile al sindaco della città dei Templi e di come questo sia propedeutico alla sua presunta prossima candidatura alla presidenza della regione Sicilia. Una bufala però la definisce il primo cittadino della città dei Templi. Si tratterebbe solo secondo quanto dello stesso asserito di un tentativo di dare una forma organica ai movimenti civici che nella recente tornata elettorale hanno favorito la sua elezione a sindaco. La mia esperienza amministrativa ha avuto avvio con due liste civiche sei mesi fa, a cui adesso pensiamo di dare una veste unitaria. Non c'è nulla di nuovo. Con questa lista abbiamo voluto interpretare l'idea di città che vogliamo e, vista le richieste di adesione di consiglieri di altre città dell'Agrigentino, allarghiamo l'idea ad altri comuni che ci vogliono stare. D'altro canto, continua Filetto, se siamo ultimi nelle classifiche è perché si tratta di una situazione generalizzata che accomuna i centri della provincia agrigentina. Per Filetto il movimentismo cresce in contrapposizione ai vari Berlusconi e Salvini, a un centro-destra che non c'è più, superando anche il grillismo urlato e quanto sta accadendo ad Agrigento dall'idea del protagonismo civico, del fare concreto che funziona e che si sta diffondendo al di là di casacche, stemme e bandiere. E' un coinvolgimento, un impegno, un desiderio di partecipazione che vedono gli agrigentini e che va esaltato. Il nostro volerci dare una forma unitaria è diverso da altre esperienze. Il riferimento è a quella crocettiana che notoriamente Filetto definisce fallimentare perché siamo aggregati da un'idea. Ed è privo di ogni velleitarismo politico. Se si va al voto in alcune realtà amministrative potremmo presentare liste civiche. Non posso escluderlo, ha detto ancora, ma parliamo di amministrative. È incalzato sull'eventualità di puntare alla Presidenza della Regione. Ha spiegato di essersi dimesso da deputato sei mesi fa perché intende fare il sindaco di Agrigento raggiungendo le mete che si è prefissato. E' una sfida con se stesso, ha proseguito Filetto, e sono ancora agli inizi, nemmeno nel pieno proprio agli inizi. Pensare a questa eventualità che non sto considerando, mi pare, per coloro i quali fanno queste speculazioni, un esercizio mentale vano.